In estate amo offrire ai miei ospiti finger food accattivanti Le sfogliatine con pomodorini e feta sono le loro preferite Gli ingredienti fondamentali? Un pizzico di passione e una manciata di allegria, sempre! Squiziose e croccanti, queste sfogliatine andranno via in un batter d'occhio E ricordate che l'importante è condividere! Grazie a tutti!